cari amici di war room books in tempi in cui una inguaribile retorica ideologica mette sotto accusa l'europa accusandola di ogni nefandezza c'è un libro che ci ricorda che cosa vuol dire essere europeisti si chiama l'economia europea tra crisi e rilancio l'ha pubblicato il mulino ed è in libreria in questi giorni ripercorre la storia dell'unione dai suoi primi passi fino alla crisi del decennio scorso per approdare alle sfide proibitive che ci riguardano proibitive perché a parole facile dire più crescita sostenibile più integrazione e più inclusività poi quando si tratta di tradurlo infatti è più complesso ed è di questo che voglio discutere con gli autori di questo prezioso volume paolo guerrieri economista con una esperienza nella politica da senatore del pd consulente di molte organizzazioni internazionali e pierpaolo padoan economista anche lui già ministro dell'economia nei governi renzi e gentiloni ma anche prima ancora direttore esecutivo del fondo monetario internazionale e capo economista dell'oxe oggi presidente del cda di unicredit benvenuti a warm books grazie 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 dell'invito allora professor padoan partiamo proprio da questa proibitività se così si può dire delle riforme nel libro voi siete consapevoli della più grande difficoltà che si prospetta nel fare le riforme perché come voi scrivete delle riforme si percepiscono prima i costi e poi benefici e i costi impattano su quel consenso che è il capitale di ogni politica e più che mai di una politica fragile come quella dei tempi nostri allora come se ne esce se ne esce avendo l'orizzonte temporale sufficientemente lungo e solido naturalmente questo è facile dirsi però forse anche un po più facile recentemente implementarlo perché come sappiamo tutti l'europa a fronte della crisi pandemica sembra aver riconosciuto non solo che le riforme ci vogliono ma che le riforme servono a tutti e questa crisi pandemica è peculiare da questo punto di vista perché ha colpito tutti i paesi europei e quindi tutti i paesi europei seppure in misura diversa seppure con intensità diversa si rendono conto che hanno bisogno di uscire dalla crisi con un meccanismo di crescita più sostenibile dal punto di vista ambientale ma anche dal punto di vista sociale quindi ci sono condizioni ripetibili che assolutamente non possono essere lasciate perdere poi naturalmente il i costi delle riforme possono essere compensati appunto da misure compensative che le rendano meno pesanti no prendiamo per esempio lo stop ai licenziamenti è durato più di un anno caso unico in europa però non ha protetto l'economia anzi ha diviso le generazioni e i generi espellendo dal lavoro donne e giovani eppure i sindacati e lo stesso ministro del lavoro hanno cercato di difenderlo e persino salvini e letta ci hanno provato ecco voi che ne pensate di queste misure che devono in qualche modo accompagnare le riforme per renderle meno cruente però che rischiano poi di vanificare alcuni effetti propulsivi dell'economia professor guerrieri giustamente mette in risalto questi due aspetti le riforme sono soprattutto fatte per stimolare come dire l'efficienza dell'economia cioè quello di favorire poi soprattutto i settori più innovativi all'interno dei settori le imprese più innovative quindi tendono a produrre dei costi di aggiustamento anche forti in previsione del fatto che questo aumenterà l'efficienza crescita però allora molto importante accompagnare queste riforme con quelle che si possono chiamare politiche di solidarietà quindi la possibilità di mitigare questi costi soprattutto di mettere in condizione gli esclusi di potersi rimettere in gioco quindi di qui tutto un discorso di formazione di politiche di accompagnamento ecco io penso che in questi anni si è trascurata questa seconda parte e quindi il risultato è stato che a questo punto il bilanciamento è stato trovato così male che alla fine non si sono fatte le riforme e la crescita efficienza ne ha molto sofferto in italia sono vent'anni che noi non riusciamo in qualche modo a crescere io credo che la lezione che poi viene dall'europa e per l'europa e per noi è questa va riscoperto un nuovo equilibrio un nuovo bilanciamento tra efficienza e solidarietà per le riforme perché questo permetterà a questo punto di facilitare e far fare quello che finora non c'è stato possibile fare però questi due aspetti vanno tenuti insieme cioè quando si disegnano delle politiche bisogna anche preoccuparsi di questi accompagnamenti che aiutano e in qualche modo come dire spianano la strada poi a quella che una giusta ricerca di efficienza e anche perché uno dei mali da combattere come voi scrivete la diseguaglianza e la vostra ricetta non è quella di una mera redistribuzione ma di una redistribuzione come conseguenza della crescita quindi connotata da interventi sull'occupazione giovanile sul welfare sulla mobilità sociale e da ultimo scrivete voi una maggiore progressività nelle politiche fiscali mi chiedo questa progressività vale anche per l'italia professor padoanna in che misura la riforma fiscale in italia è qualcosa che si attende da tempo quello che è stato fatto a volte sotto pressioni di forza maggiore come si dice è stato quello di aggiustare alcuni pezzi del sistema fiscale che inevitabilmente sono si sono diciamo a volte mal conciliati con il resto del sistema fiscale sappiamo quali sono i mali del sistema fiscale italiano non è soltanto il fatto che bisogna reintrodurre una progressività effettiva e non apparente e quindi bisogna che il sistema fiscale si faccia pagare intendo dire che c'è un problema molto grosso di lotta all'evasione su cui si cominciavano ad avere dei risultati c'è un problema molto grosso di efficienza dell'amministrazione tributaria che è come il resto dell'amministrazione pubblica troppo farregginoso per rispondere agli obiettivi che ci si sono dati ma bisognerebbe poi collegare la equità fiscale a che va verso un'eguaglianza dei dei redditi e delle risorse a disposizione degli individui ad una eguaglianza delle opportunità e cioè mettere soprattutto i giovani in condizioni di poter avere una prospettiva nella loro vita che sia almeno equivalente a quella di chi nasce più fortunato e da questo punto di vista bisogna investire molto di più nel sistema formativo dell'educazione perché ormai questo lo sappiamo bene è il capitale umano quindi la formazione che determina la ricchezza di ricchezza disponibile la crescita dei paesi quindi bisogna fare un discorso complessivo lo so che sembra sembra troppo complicato ma ormai siamo in una fase in cui bisogna avere il coraggio di rivedere le fondamenta dei sistemi istituzionali economici mi viene in mente un grande pensatore anzi onas che diceva bisogna far sì che lo sviluppo non impedisca ai figli di programmare il futuro esattamente così come hanno fatto i padri questo vale ovviamente per le prospettive ambientali ma vale anche per le prospettive economiche i giovani lei lo ha detto e allora ma come si offrono queste opportunità di parità effettiva ci ha pensato in questi giorni il segretario del pd a ricoletta a proporre una eredità universale 10.000 euro ai 18 anni pagata con una tassa sulle successioni dei più ricchi ma al di là del dell'aspetto diciamo legato alla alla tassa delle successioni la domanda che io vi pongo e un'altra cioè ai giovani serve una paghetta generosa o serve un mondo del lavoro più contendibile occasioni di formazioni diverse professor guerrieri ma vorrei anche il professor padovanzo questo tema ma sicuramente serve un mondo di opportunità in 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 tante aree a partire naturalmente dalla scuola eh dall'università perché lì poi è che come dire si formano da un lato una formazione generalizzata ma dall'altro emergono anche specificità competenze eccellenze da questo punto di vista quindi innanzitutto quello che serve ai giovani è creare queste opportunità scuola università e enormemente importante è l'accompagnamento poi dalla scuola università o da un lavoro che si perde verso una nuova opportunità perché i giovani naturalmente sono anche quelli che poi a un certo punto nella vita scopriranno varie possibilità e varie occupazioni questo rientra nel discorso più generale che facevamo prima cioè è importante lasciare agire quella che un grande economista del passato Schumpeter chiamava la distruzione creatrice del mercato cioè l'economia di mercato è importante che agisca perché distrugge quelle attività che sono obsolete che non hanno più una convenienza ma crea sempre nuove opportunità e quindi questa questo campo ricambio non è qualche cosa di speciale ma è proprio fisiologico alla possibilità di crescere allo stesso tempo però bisogna mettere diciamo giovani e meno giovani nelle condizioni di cogliere queste opportunità altrimenti restano a difendere e direi giustamente quello che poi in qualche maniera è il posto di lavoro quello che in qualche modo fanno quindi io credo che adesso a parte il discorso sulla tassa di successione poi questo grande diciamo scandalo che ha creato in Italia le tasse di successione sono un terzo di quello che sono in qualunque altro paese europeo la Francia la Germania quindi parlare di una come dire riaggiustamento io non lo trovo scandaloso non ci fossilizziamo sul mezzo siamo d'accordo lo scandalo sul mezzo è demagogio però sul fine cioè ai giovani serve una paghetta di 10.000 euro? Secondo me servono molto più queste cose che stiamo dicendo cioè serve una scuola, serve un'università servono delle politiche in qualche modo ormai non di formazione del giovane ma sono politiche che si chiamano di formazione continua cioè di questa continua capacità di potersi riadattare a quello che poi la tecnologia, il progresso richiede una volta era molto più lento questo cambiamento oggi è diventato molto più rapido quindi c'è ancora più bisogno di queste politiche di accompagnamento questo serve soprattutto ai giovani e queste opportunità io credo che in Italia oggi manchino o sono molto carenti Professor Paduan si riconosce le parole del Professor Guerrieri? Mi riconosco come spesso succede visto che siamo stati autori di tante cose la firma congiunta, lei giustamente diceva separiamo la questione del meccanismo dalla questione del suo finanziamento tramite tassazione di vario tipo ecco questo è il caso, io anch'io penso che bisogna tenerle separate e penso che comunque questa potrebbe essere una occasione per ripensare in modo più ampio il sistema fiscale dal punto di vista redistributivo perché stiamo parlando di equità intergenerazionale quindi è un problema globale di sistema fiscale, di sistema formativo in cui bisogna fare un bilancio di quello che si dà ai giovani al di là delle risorse finanziarie anche perché bisognerebbe forse vincolare questo trasferimento io non lo chiamerei paghetta perché non sono pochi soldi questo trasferimento con qualche indicazione, suggerimento non dico vincolo sull'utilizzo della paghetta medesima Benissimo, a proposito di tasse c'è anche il tema di tassare i cosiddetti giganti del web voi riconoscete che è sempre difficile farlo ogni volta che un paese europeo ci ha provato l'amministrazione Trump per esempio ha minacciato di usare nuovi dazi nei confronti dell'Europa e anche la strada di un accordo europeo è irta di ostacoli fra pressioni delle lobby e divisività dei paesi come si supera questo problema che fra l'altro genera anche rabbia nei cittadini Professor Padoan prima Ma questo è un problema veramente globale in cui l'Europa deve colmare un ritardo perché anche qui forse è bene separare l'obiettivo dalla questione del finanziamento dello strumento c'è un ritardo europeo dal punto di vista della capacità di produrre tecnologie digitali i giganti del web, i cosiddetti big tech non sono europei, sono americani, sono cinesi, sono asiatici gli europei sono consumatori di quello che questi big tech producono e quindi sono sottoposti all'asimmetria di condizionamento che c'è fra consumatore e produttore di qualunque cosa, cosa che sappiamo da tempo non solo c'è un problema di asimmetria tra consumatore e produttore ma c'è un problema del fatto che queste tecnologie che vengono evidentemente rinnovate a una velocità impressionante hanno a che fare con la definizione complessiva della capacità competitiva di un continente come l'Europa quindi è un problema strategico per definizione che cosa fare? qui la discussione è ampia sicuramente io sarei a favore di una valutazione su come questo ritardo strategico della produzione di tecnologie digitali possa essere colmato ma c'è anche l'aspetto fiscale l'aspetto fiscale che ha varie funzioni una di queste funzioni è sicuramente quella diciamo redistributiva in senso tradizionale cioè se queste imprese big tech fanno tanti soldi fanno tanti profitti utilizzando le loro posizioni di monopolio soltanto questo fatto diciamo invoca la necessità di trovare un sistema di tassazione equa su questo purtroppo l'Europa è spesso arrivata divisa c'è il fatto che le questioni fiscali richiedono un voto unanime e questo è molto difficile io spero che l'Europa capisca che si debbano fare passi avanti oramai e qui chiudo mi sembra che l'elemento fiscale cioè la tassazione una tassazione che abbia dimensioni globali sia diventato nuovamente un elemento di geopolitica come si dice la proposta di Joe Biden di identificare una minima tassa comune ha implicazioni fiscali finanziarie ma anche politiche in senso appunto globale e quindi l'Europa non può fare a meno di definire i suoi interessi globali anche dal punto di vista fiscale ultimo esempio ho finito un'eventuale estazione ambientale avrebbe argomenti simili e parleremo dell'ambiente ma lei ha posto una questione centrale perché possiamo noi in un mondo digitalizzato dove l'economia digitale è l'economia stessa continuare a considerarci meri consumatori oppure dobbiamo recuperare il tempo perduto è possibile che l'Europa si doti di una sua industria sul terreno delle nuove tecnologie delle big tech o è troppo tardi? Professor Guerrieri No, è assolutamente necessario è un passaggio obbligato perché da questo punto di vista appunto quello che si diceva prima le big tech i giganti del digitale sono in questo momento gli attori che dettano addirittura le direzioni del cambiamento tecnologico i settori da sviluppare questo perché per ora la competizione è tra Stati Uniti tra attori, imprese degli Stati Uniti e imprese della Cina l'Europa in realtà si sta inserendo come regolatore noi abbiamo emanato come europei diciamo due direttive che adesso poi faranno il loro corso sia sul mercato e sia sugli stessi attori è una cosa giusta è un indirizzo giusto anche qui bisognerà comunque trovare una forma di in qualche modo cooperazione con gli Stati Uniti però non ci può bastare questo elemento di essere un arbitro perché in realtà il campo di gioco oggi non vede nemmeno un giocatore europeo mentre in realtà noi dobbiamo creare a questo punto le condizioni poi perché nascano anche dei campioni europei e qualche timido passo si sta facendo ma è evidente che sia un passaggio obbligato comunque va sottolineato a proposito del discorso che resta fondamentale cioè è importante contrastare questo strapotere dei giganti del web perché in realtà parte di questa loro forza deriva dalla esenzione fiscale cioè non pagano le imposte loro e anche altre multinazionali perché sono in grado di far apparire i profitti laddove le tasse o non si pagano o si pagano pochissimi bene questa proposta di cui parlava il professor Padoan del presidente Biden è un diciamo realmente un cambiamento importante l'Europa ha risposto dobbiamo riconoscerlo perché è passato un po' in silenzio ma l'Europa ha annunciato una sua proposta che è anche questa molto rivoluzionaria perché si proporrà in Europa un sistema all'americana cioè un'imposizione unica a livello federale europea con la possibilità un bilancio unico con la possibilità di ripartire in proporzione le tasse e i profitti naturalmente come diceva lei adesso vedremo la reazione dei piccoli paesi che lucrano dalle differenze in qualche modo di imposta però qui sta l'importanza di un accordo internazionale che proprio in questi giorni il G7 se ne occuperà il G20 in qualche modo ne riparlerà tra qualche settimana se si raggiungesse un accordo a livello di gruppo così dei paesi dei 20 paesi o dei 7 paesi io credo che diverrebbe più facile premere sui piccoli paesi europei e tra virgolette costringerli in qualche modo ad un accordo che a questo punto avrebbe un significato internazionale tutte le cose importanti purtroppo me lo faccia dire professor Guerrieri nel dibattito pubblico passano in silenzio per esempio il tema della sostenibilità chi ne parla in maniera concreta nella sfera pubblica pochi e voi lo fate nel vostro libro scrivete la grande sfida dei prossimi anni sarà dimostrare che la sostenibilità genera più reddito e occupazione dell'economia ad alta intensità di carbone ecco ma che vuol dire professor Padoan sostenibilità paleoliche a go go e distese di campi agricoli convertiti in un'immensa piattaforma fotovoltaica come paventa Federico Fubini su una Corriere della Sera in un editoriale di qualche settimana fa oppure come suggerisce l'Agenzia Internazionale dell'Energia in un rapporto per le Nazioni Unite ne ha parlato Carlo Stagnaro sul foglio nei giorni scorsi più nucleare più elettricità più idrogeno verde viola in quantità gigantesche e come si convincono gli ambientalisti nostrani che questa è la sostenibilità la sostenibilità è un concetto complesso che ha a che fare con l'ambiente con l'energia ma anche la sostenibilità sociale in questo periodo soprattutto nel sistema finanziario si parla molto di paradigma ESG Environment Social and Governance che significa che le decisioni di allocazione di investimento dei sistemi finanziari debbano essere indirizzate verso strumenti sostenibili cosa vuol dire? vuol dire comprare un bond verde che serve a finanziare un'energia pulita piuttosto che finanziare un'energia meno pulita marrone magari legata al carbone quindi si sta parlando di un grande processo di riallocazione delle risorse nelle quali i valori della sostenibilità ambientale siano più importanti e questo semplice semplice diciamo questo fatto così come si può descrivere è di tale forza che cambia le 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 vocazioni cambia gli incentivi cambia gli interessi e quindi cambia i meccanismi allocativi quindi non si tratta di fare alla fine della giornata anche un po' di investimento sostenibile ma di spostare l'enfasi verso l'investimento sostenibile fin dalla mattina per così dire questo naturalmente può rischiare di diciamo di creare confusione sui mercati quindi diciamo l'immagine evocata dall'articolo che lei citava forse è in mente qualcosa del genere per adesso questo non mi sembra che stia avvenendo mi sembra che ci sia semplicemente una predisposizione a investire in impieghi sostenibili più interesse di prima e questo interesse è un interesse che per esempio ha a che fare con i giudizi che gli azionisti danno degli investimenti che fanno le imprese le cui azioni vengono acquistate quindi è un nuovo elemento di giudizio e di valutazione di mercato come tutti i mercati ci sono i fallimenti quindi c'è bisogno di regolamentazione di regolazione di queste cose ma sicuramente siamo in una situazione diversa rispetto al passato chiudo ricordando che negli ultimissimi tempi diciamo l'intensità di carbone l'intensità di CO2 è diminuita ma questo naturalmente è anche la conseguenza della grave recessione dovuta alla crisi quindi in parte diciamo la recessione sta cambiando i modi di consumare le preferenze energetiche le preferenze ambientali può darsi che una volta che torniamo in una situazione di normalità ci ritroviamo ad essere più verdi di prima meno diciamo inquinatori di prima con beneficio di tutto però lei mi ha risposto anche se indirettamente alla questione di merito cioè su che cos'è sostenibilità perché lei mi ha detto se ho ben colto che non tutto ciò che è ambientale è anche sostenibile perché per essere sostenibile occorre anche una sostenibilità finanziaria e allora alcune delle tecnologie delle fonti energetiche che sono poi quelle diciamo le bandierine di un certo pensiero ambientalista purtroppo si scontrano con un tema di sostenibilità finanziaria o no e dobbiamo cambiare il paradigma crescendo e facendo anche crescere il nostro movimento ambientalista secondo voi professor Guerrieri ci sono due secondo me come dire illusioni che vanno in qualche modo sicuramente a questo punto come dire modificate la prima è l'idea che quello che servirà sarà risorse pubbliche investimenti pubblici e avremo il grande cambiamento nei confronti di politiche ambientali è vero che c'è bisogno e ci saranno investimenti pubblici però la vera trasformazione verrà attraverso una massa di investimenti privati e di iniziative e allocazione del settore privato che seguirà a questo punto delle convenienze che bisognerà creare quindi la prima illusione è che si tratti solo o in gran parte di un discorso che riguarda l'intervento pubblico non è così perché la quantità in qualche modo di risorse che verrà interessata va molto al di là di queste risorse che sono state e verranno stanziate quindi bisogna creare delle convenienze come lei diceva di tecnologia perché sarà un grande aiuto se non l'aiuto fondamentale per cambiare paradigma secondo il problema dei costi di questa transizione ambientale non se ne parla mai ma bisogna invece parlarne perché purtroppo i costi non sono ripartiti simmetricamente nella società ma stanno gravando e graveranno soprattutto in qualche modo con le classi meno favorite se non quelle più disagiate questo è un grande problema sociale la transizione va gestita verso una società diciamo ambientalmente più sostenibile perché bisogna in qualche modo che anche le opportunità i profitti che potranno essere colti dalle nuove attività vengano utilizzate per indennizzare coloro che restano indietro questo abbiamo avuto un clamoroso diciamo esempio in Francia con la rivolta dei gilet gialli che fu in qualche modo come dire ispirata da un provvedimento che sembrava quasi diciamo di pochissimo conto un leggero aumento a questo punto della tassa sui carburanti e in realtà è venuto fuori che era un grande problema per alcuni ceti soprattutto quelli che abitavano fuori città ecco io credo che questo sia questo secondo aspetto sia molto importante non ci potrà essere una rivoluzione ambientale intesa come un cambio di paradinga se non ci faremo carico di questa capacità di non solo indennizzare ma di farci carico di chi pagherà i maggiori costi della transizione e questo è un aspetto che io vedo pochissimo trattato perché in qualche maniera si dà per scontato che una volta che metteremo in moto questo nuovo paradigma come dire ce ne sarà per tutti non è così Professor Padoan l'uscita dalla pandemia è stata garantita da uno stock crescente di debito pubblico ma la sospensione del fiscal compact non durerà in eterno e neanche il supporto della BCE prima o poi l'Italia pagherà il conto oppure credete che riusciremo a convincere l'Europa del rigore che in tempi nuovi occorrono regole nuove occorrono regole nuove per tutti perché il pato di stabilità si è dimostrato inefficiente soprattutto intollerabile di fronte alla crisi pandemica ma occorreranno anche politiche che rendono il debito sostenibile ricordo la semplice aritmetica della sostenibilità del debito un debito è sostenibile se il tasso di crescita dell'economia di cui il debito è la controparte è maggiore del tasso dell'interesse sul debito medesimo finché questa condizione diciamo si mantiene il debito è sostenibile nel senso che va diminuendo il rapporto al PI del rapporto al prodotto interno l'urdo quindi per farla breve che cosa serve la sostenibilità due cose uno che l'economia cresca e qui l'Italia ha dei problemi storici due che il tasso di interesse sul debito italiano sia sufficientemente contenuto e quindi c'è un problema di fiducia dei mercati questo vuol dire che finché c'è speranza nella crescita e fiducia dei mercati l'Italia può andare avanti in questo modo ma questa diciamo percezione da parte dei mercati e dei cittadini e delle imprese non durerà in eterno anche se ci potranno essere diciamo accomodamenti continui da parte delle autorità di politiche economiche da questo punto di vista già vediamo che nel dibattito macroeconomico corrente ci sono voci che dicono che bisogna pensare ad un arresto della caduta dei tassi di interesse una ripresa della caduta dei tassi di interesse tanto più che l'inflazione di cui si comincia anch'essa a parlare potrebbe essere dietro l'angolo e quindi c'è un problema di tassi di interesse troppo bassi per contenere questa inflazione ma invece Next Generation EU è stata una reazione irripetibile a una grande emergenza è stato l'ultimo scatto di generosità di una leader Angela Merkel che sta per lasciare la scena o l'inizio di una nuova e più matura coscienza europeista nelle classi dirigenti che si tradurrà presto anche in un bilancio europeo più gongro alla necessità di politiche anticicliche professor Guerrieri credo che potrebbe essere sia l'una che l'altra molto semplicemente potrebbe diventare cioè potrebbe essere l'ultima espressione nel senso un qualche cosa di eccezionale e non ripetibile se si determineranno due condizioni uno non verrà usata come Next Generation una strategia di crescita ma si trasformerà in una sorta di aiuto sostanzialmente a Italia e Spagna questo è un pericolo cioè che poi gli altri paesi non utilizzino gli strumenti ad esempio i prestiti si sta configurando adesso il fatto che per ora sia l'Italia che poi vorrà usare sia quelli che si chiamano diciamo elargizioni nel senso che sono grants e sia la forma di prestiti quindi questo è un primo rischio che non venga utilizzato come una vera e propria strategia comune per rilanciare il secondo rischio è che l'Italia ne faccia un cattivo uso cioè non riesca in qualche maniera a trasformare queste risorse in una maggiore crescita come diceva prima il professor Paduan questo consentirà una nostra gestione del debito e si potrà dimostrare che le risorse europee servono non solo al paese ma servono all'intero spazio europeo quindi io vedo la possibilità in positivo cioè che diventi qualcosa di più cioè uno strumento poi della politica fiscale comune se si realizzeranno queste due condizioni cioè il next generation diventa uno strumento in questi anni di crescita dell'area europea e secondo noi come paese sapremo farne un uso in qualche maniera efficiente quindi rilanciare soprattutto la crescita e dimostrare anche agli altri paesi che in questi casi non c'è un aiuto a un singolo paese è un aiuto all'economia europea se questo non si verificherà io temo che quello che lei prospettava cioè il fatto che resti un prestito una tanto un aiuto una tanto possa concretizzarsi quindi dobbiamo stare molto attenti perché come paese abbiamo una grande responsabilità e dobbiamo anche cambiare la governance dell'Europa ne ha fatto prima un accenno il professor Paduan l'Europa a due velocità teorizzata in un bel libro di Sergio Fabbrini intitolato Sdoppiamento mi pare del 2017 la convince il professor Paduan oppure il recovery plan ha dimostrato che si può ancora decidere tutti insieme con il recovery plan si può se si deve decidere tutti insieme perché il rischio di divergenza è molto forte una delle ragioni per cui la commissione europea ha lanciato l'idea del next generation new è stata proprio quella di contrastare la divergenza c'è una divergenza macroeconomica tra l'Europa nel suo complesso e l'economia americana ci sono divergenze all'interno dell'Europa e se le divergenze non vengono invertite colmate allora i singoli paesi cominceranno a pensare agli loro interessi immediati diretti e più che a quelli diciamo collettivi europei quindi c'è questo questo rischio che va assolutamente fronteggiato e può essere fronteggiato perché le risorse ci sono adesso sta ai paesi che ne hanno di più dimostrare che si possono usare bene ma dalla crisi pandemica chiedo ancora al professor Padon stiamo uscendo più globali o più protezionisti e in un mondo multipolare che si definisce in base ai rapporti di forza delle grandi aggregazioni geopolitiche un po' di sano sovranismo europeo fa bene oppure no? sono due domande diverse uno se stiamo uscendo più multipolari o più diciamo individualisti fino adesso mi sembra che stia prevalendo il fatto che c'è uno shock negativo globale ma ci sono anche pericolosi segni di nazionalismo che sono molto sbagliati perché sappiamo che in questi casi più che addirittura in altri casi il contagio può essere molto violento e può essere del tutto illusorio pensare di risolverlo con soluzioni nazionali il sovranismo europeo non so cosa sia però visto anche la sua posizione attuale posso citare una delle frasi importanti di Mario Draghi che ci ricordava quando si parlava di sovranismo che bisogna l'Europa è una forma di cessione di sovranità che rafforza la posizione individuale dei paesi quindi bisogna avere una politica di sovranità europea che guardi all'esterno e che possa essere anche di indicazione alla governance globale di cui non dimentichiamoci bisogna sempre difendere l'approccio multilateralismo multilaterale per evitare invece ritorni nefasti al nazionalismo e mi ha risposto il sovranismo europeo è una brutta parola con cui però in qualche modo ci si sottrae quella declinazione diciamo dell'egoismo in chiave nazionale però si riconosce che poi nel confronto tra grandi aggregazioni geopolitiche l'Europa ha il diritto dovere di difendere i suoi diritti e i suoi interessi lo dice anche il libro molto bene nel rapporto con per esempio una grande paese che è la Cina un paese dove la competizione tra i singoli paesi nazionali ha creato qualche problema e dove l'egemonia imperialistica della Cina anche durante la pandemia ha avuto modalità espressive molto forti professor Guerrieri come si regola questo rapporto così complesso e così difficile? Innanzitutto anche se molto tardi l'Europa ha riconosciuto che la Cina è sì un gigante economico una grande opportunità di mercato che noi tra l'altro stiamo sfruttando soprattutto la Germania però è anche una minaccia per le ragioni che adesso lei citava cioè è una grande potenza che innanzitutto persegue un suo disegno un disegno di allargamento della sua sfera di influenza attraverso economici e di vario tipo quindi l'Europa non può quello che ha fatto per molti anni semplicemente come dire favorire un inserimento della Cina nel sistema internazionale noi dobbiamo avere una politica diversificata e questo mi sembra almeno la strada che si sta delineando a livello bilaterale ci dobbiamo confrontare anche duramente perché serve una reciprocità non possono venire da noi le imprese cinesi e avere diciamo la libertà che hanno mentre le imprese europee che operano sul mercato cinese sono sottoposte a tutta una serie di vincoli vessazioni bisogna stabilire una maggiore reciprocità questo naturalmente lo si potrà fare a livello bilaterale quanto più Stati Uniti e Europa negozino di concerto perché la Cina teme soprattutto la forza più che non poi la singola convinzione però a livello multilaterale globale la Cina è importante un accordo sul clima è impossibile da raggiungere se non coinvolgeremo la Cina ci sono delle questioni quindi che a livello globale devono vedere una politica che cerchi di stimolare la Cina non a essere generosa perché l'ambiente interessa anche la Cina sia perché hanno un problema enorme di inquinamento ma sia perché sono grandi produttori di beni che poi servono a lottare contro la degenerazione quindi io vedo questa necessità che poi però è oggi sulla carta quello che l'Europa vuole fare cioè misurarsi bilateralmente anche duramente per condizioni di maggiore reciprocità ma allo stesso tempo sviluppare una politica di cooperazione a livello globale a me sembra che per quanto per ora la politica americana con Biden verso la Cina sia cambiata poco o nulla almeno infatti anche l'amministrazione americana sembra in qualche modo propensa verso una come dire strategia di questo tipo ecco se gli Stati Uniti e l'Europa raggiungessero una maggiore coesione con una finalità di questo tipo diversificata tra bilaterale e globale io credo che nei prossimi anni noi potremmo ottenere quei risultati che per ora invece non abbiamo assolutamente ottenuto anzi la Cina ha avuto facile gioco a dividerci perché ha fatto poi anche per l'Italia delle concessioni allo solo scopo di indebolire poi l'attore europeo nel suo insieme quindi questo è il pericolo maggiore che dobbiamo scongiurare quello di farci attrarre dalle offerte della Cina che hanno un solo scopo di dividerci per quindi poter poi imporre molto meglio nei trattati quello che vuole fare quindi una maggiore coesione con questa visione bilaterale e multilaterale di cooperazione sarà difficile però non c'è altra strada perché la strada dello scontro puro e duro è impercorribile a meno di non volere evocare diciamo scenari apocalittici come si dice certo che non ci auguriamo professor Padoanna nel salutarvi e ringraziarvi di aver partecipato a questa chiacchierata mi faccio dire che la copertina di questo bellissimo libro che avete scritto ha due suggestioni antagoniste perché da una parte c'è effettivamente il pesce rosso che passa da una boccia più piccola a una più grande e questo un po' raccoglie la sfida in questo momento propulsiva dell'Europa e dall'altra però c'è sempre il rischio di fare la fine dei pesci rossi diciamo lei è ottimista e a quale quale delle due prospettive la spaventa diciamo come le vede la prospettiva che mi spaventa è che ci siano tanti piccoli pesci rossi o di altro colore che vadano ognuno per conto proprio e quindi siano di facile preda i pesci più grandi mentre invece se i pesci rossi decidono di viaggiare assieme i pesci più grandi potrebbero ripensarci prima di attaccare naturalmente fermo restando che pesci rossi e pesci più grandi ci saranno sempre bene e allora con questo auspicio alla poesione perché l'unione fa la forza noi io ringrazio Pier Paolo Padovan e il professor Guerrieri di aver partecipato a War Room Books cari amici ci rivediamo noi invece venerdì prossimo alla stessa ora per un'altra proposta buon weekend a tutti grazie a tutti